Con un gol di Diele Euterio in avvio di secondo tempo, il Cologna batte il piano della lente e in camera tre punti d'oro in chiave salvezza e consolida la posizione di metà classifica. Risultato tutto sommato giusto perché i padroni di casa hanno concesso davvero molto poco agli avversari, ma nel finale di gara hanno rischiato di subire il pari con la spizzata di testa di Adorante che ha mandato la sfera di un niente fuori. Gara gradevole perché entrambe le formazioni hanno giocato a viso aperto, gli ospiti si sono affidati in attacco soprattutto a Canzanese che nel turno infrasettimanale contro il Morro d'Oro aveva messo a segno una pesante doppietta. Locali rimaneggiati e vogliosi di cancellare la sconfitta col Ponte Vomano che era maturata nelle battute finali, buoni ritmi in avvio con Canzanese che prova subito a spaventare Donateo con un insidioso traversone dalla destra. Immediata anche la risposta dei padroni di casa con un tiro dalla media distanza di Ruggeri che viene deviato in corner da Di Domenico. Si fa male Tosi, strana torsione del ginocchio, uscirà in barella, mister Massarotti inserisce Di Felice. Predominio a centrocampo per i locali ed occasionissima poco prima della mezz'ora per Ruggeri che arriva dalle retrovie e il tiro viene sporcato da un difensore. Solo angolo per la truppa di Piccioni. Il colonia c'è e si vede piano della lente che fa più fatica a trovare gli spazi anche perché il centrocampo dei padroni di casa morde alle caviglie gli avversari. Nel finale di tempo altro cambio per gli ospiti fuori di Pancrazio dentro Camilletti, squadra di fatto ridisegnata da Massarotti. Nella ripresa parte bene l'undici ospite Donateo in un paio di circostanze costretto ad usare i pugni. Baricentro alto per il piano della lente che però viene infilato in contropiede all'undicesimo. Verticalizzazione per Di Eleuterio che viene tenuto in gioco da Adorante che poi scivolerà. L'attaccante coloniese si presenta solo dinanzi a Di Domenico e lo bate in uscita. Inutili le proteste degli ospiti che chiedevano una posizione di offside. Cologna che avrebbe l'occasione di raddoppiare poco dopo ma Ioannone spara addosso al portiere. Ospiti che vanno vicino alla pari al 27esimo con Camilletti che di testa non inquadra lo specchio della porta. Padroni di casa che potrebbero chiudere l'incontro ma l'inesperienza della squadra di Piccioni a volte gioca brutti scherzi. E così la chance per portare a casa almeno un punto nel finale di gara ce l'ha Adorante ma la porta di Donateo resta imbattuta.